Eppure Aldu, com'è strano se tu prevedi la chiesa? Perché? Io mi sto accennando la chiesa, mi sono chiuso a confessare, no? Mi aspettavo che chi le ricevete? Le ricevete due per Maria e tre padri nostri. Invece si dice, no, 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 voi una volta che fate peccato e cose, dovete fare opera di bene. Figliate 50 euro e le date alla prima persona che incontrate. Eh, sono qui, a me 50 euro. Ah, non è fesso, cane mio. No, non deve essere una persona conosciuta, se no invece uno deve perdere la casa e ci ha regalato il figlio alla moglie. Deve essere una persona estrarca, pigli 50 euro e ce li ha. Oì, oì, qua c'è stata una prostituta, la conosci? Ah, signore, io non la so, tu la sai. E che non sai che è una prostituta? Eh, se è vero, che ha una via. Ah, sì, sì, una prostituta. Non ce l'ha essa, vieni se è piccolo. Eh, 50 euro. Eh, beh. Signore, buonasera. Buonasera. Signore, qua stanno 50 euro. Bello, ma non vai che ha 50 euro, cambierà 100 euro. No, 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 signora, 50 euro. Me l'ha detto proprio il prete, vedi, 50 euro. Ha detto breve, ti dice, ah, zecco, il prete venne tutte le giorni. È cliente. No, no, no. Bergamo, grazie.